Un buon martedì a tutti, ascoltiamo insieme il Vangelo che la liturgia ci regala, un brano molto breve con due parabole molto molto sintetiche ma davvero intenso e anche pieno di speranza, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo diceva Gesù, a che cosa è simile il regno di Dio? A che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido tra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. Due immagini allora, l'immagine del regno di Dio simile a un granello di senape, l'immagine del regno di Dio simile al lievito. Qual è la caratteristica che accomuna le due immagini? Che sono due realtà piccole. In realtà il lievito si mescola nella pasta, addirittura non lo distingui. E il granello di senape è veramente piccolissimo. Non so se vi è mai capitato di vederlo ma è praticamente polvere, c'è un pochino di granelli di senape, praticamente sembra di avere in mano un po' di polvere con dei granellini un tantino più grandi. Molto piccoli, non li vedi. Come il lievito non lo vedi quando è nella farina? Difficilissimo no distinguerlo. Eppure ciò che accomuna queste due cose molto piccole è il senso di sproporzione. Sono molto piccole ma hanno effetti che invece si vedono. E come se si vedono? Il granello di senape per quanto piccolo produce una pianta abbastanza grande. In effetti il Vangelo la fa forse un pochino più grande di quello che è nel senso che non è un albero enorme, l'albero di senape. Se andate anche a vedere su Google e mettete pianta di senape per un'immagine non è certamente una quercia, però è un albero significativo, è grande, non è certamente un filo d'erba. Analogamente il lievito, vero, non lo vedi più quando è mischiato nella farina ma ne vedi gli effetti. E come se ne vedi gli effetti? Vedi che fa lievitare la pasta. Allora cosa ne ricaviamo da queste due analogie per rapporto al regno di Dio? Beh ne ricaviamo che potresti essere scandalizzato dalla piccolezza del regno di Dio. In effetti tu potresti guardare il regno di Dio, potresti guardare i segni del regno di Dio nella storia e rimanere scandalizzato sembra così piccolo. Quando ci guardiamo attorno quante realtà ci toccano e bussano alla nostra porta e sembra non sotterrare la fede, sembra che non abbia quel grande ruolo la fede. Ma potrebbe essere anche l'esperienza della nostra vita quotidiana, un vortice di cose da fare. Poi ti guardi e dici beh ma la fede che cosa fa in questa marea di scadenze che sembrano pressare la mia vita. L'esperienza che potremmo avere quando guardiamo la vita sociale. Sì la fede c'è ma ma che rilevanza ha? Ma quanto male c'è comunque? E quanto si riesce a far sentire la parola bella, consolante, importante del Vangelo? Potrebbe essere un'esperienza sociale quello che ci tocca. Questa cosa l'ho sentita tanto e soprattutto da tanti ragazzi, da tanti giovani, non tantissimi ma quelli con cui ho a che fare, che magari vivono un'esperienza di fede. Sì vivo delle relazioni, vivo delle amicizie anche belle ma sembra non esserci spazio per la fede. Per anni ho guidato un'esperienza che è il gruppo Samuele e era una cosa comune di questi giovani. La prima esperienza consolatoria, oh mi trovo una volta con dei giovani come me che condividono un orizzonte di fede ma spessissimo all'università, nei luoghi di lavoro, mi sembra che non abbia cittadinanza l'esperienza della fede. A volte potrebbe essere l'esperienza del male che viene ci fa apparire la nostra fede come estremamente fragile, possibile che non cambia nulla. Prego e non cambia nulla e a volte mi sembra che Dio non faccia la differenza. Andate avanti voi no con l'elenco, quante volte possiamo fare l'esperienza della piccolezza della fede ma soprattutto questa esperienza può diventare shock, quasi scandalo. Sembra così piccola la fede di fronte alle sfide della vita, mi sembra così insignificante realizzarsi del regno di Dio rispetto a ciò che sembra contraddirlo nell'esperienza quotidiana. Ecco allora la promessa del Signore, sì è vero il regno di Dio non capita mai nella vita con la violenza di chi si impone, non è mai una cosa mastodontica che arriva e ti sciocca con la sua grandezza, però quando lo sperimenti fa la differenza. Certo che da fuori puoi rimanere anche a volte scandalizzato dalla sua piccolezza, dalla sua insignificanza, dalla sua fragilità, sembra non essere rilevante, ma da dentro un po' come il lievito nella pasta, quando lo lasci lavorare e beh fa fermentare. Quando tu lo butti questo piccolo seme di senape che non sembra nulla, addirittura il Vangelo dice vennero gli uccelli del cielo a fare il nido fra i suoi rami. Forse non è così grande una pianta di senape perché sia possibile, ma l'immagine è interessante, questa cosa che sembra insignificante diventa addirittura rifugio, diventa possibilità di difesa, diventa nido. Che bellano queste queste due immagini. Sembra dirci il Signore ma gettalo questo seme, ma prova a vedere che lievito fa, che effetto fa questo lievito. Certo finché il lievito tu lo tieni lì in mano e lo osservi e dici ma che roba banale, sembra farina. Certo finché il granello di senape tu lo tieni lì in mano e dici ma dai ma cosa vuoi che succeda con una cosa così piccola? E' ovvio non succederà mai nulla. Finché noi rimaniamo soltanto a contemplare nel palmo delle nostre mani la piccolezza del seme o la piccolezza del lievito, nulla succede. Finché noi ci limitiamo a guardare da fuori il regno di Dio, forse davvero rimaniamo solo scandalizzati dalla sua piccolezza e poco altro. Soprattutto in questa nostra epoca no? Dove sembra che le glorie di un tempo della chiesa stiano pian piano declinando. Tu guardi da fuori e mi nasce la tristezza nel cuore. L'unico modo per superare questo scandalo è buttalo il lievito nella farina, buttalo il seme nella terra, impasta la tua vita con questo lievito, coltiva la tua vita con questo seme e allora ne vedrai la grandezza, ma è solo dal di dentro, è solo agendo queste realtà che tu puoi vederne la grandezza. Allora che sia davvero un'indicazione no per questa giornata? Niente spazio, la contemplazione a distanza di sicurezza della piccolezza del regno di Dio, che sia invece una giornata l'insegna del vivere il regno di Dio e allora non esperimento la forza che schiaccia, ma la grandezza che ospita e che fa lievitare la pasta. Grazie per aver condiviso questo momento, a tutti di cuore un buon martedì.